Illustri e signori dell'Accademia Vi avete fatto l'onore di invitarmi a presentare all'Accademia Una relazione sulla mia trascorsa vita di Cimino Non posso purtroppo in questo senso soddisfare completamente la richiesta Quasi cinque anni mi separano dalla mia vita di Cimino Un periodo breve forse si è misurato sul calendario Infinitamente lungo A passarlo al galoppo come ho fatto io Accompagnato a tratti da persone eccellenti Applausi, musica orchestrale In fin dei conti però Solo